bella ragazzi un saluto da superproject questo oggi andiamo a conoscere sleeping dog voi direte ma chi è? ma cosa ce ne frega? oppure ma chi lo conosce? ma invece ragazzi è molto interessante perchè è un TH9 che è tristella con estrema fallicibilità quindi andiamo nel nostro clan eccolo qua sleeping dog TH9 livello 109 reali entrambi al 15 golem livello 3 mastigna al 2 mongo al 6 vi dico solo queste perchè sono le troppe usate principalmente da lui naturalmente tutte le magie maxate andiamo quindi subito a vedere la scorsa war il suo attacco nella scorsa war finita 37 a 33 ottima war intanto vi dico che il mio villo sta subendo delle tre stelle della TH10 purtroppo inevitabile contro i TH10 spero che di essere attaccato anche da TH9 ma essendo il TH9 di maggior livello spesso mi attaccano TH10 quindi non so se il villo sta reggendo bene se può reggere bene o meno contro il TH9 eccolo qui andiamo a vedere per la prima volta le sue truppe poi andremo più velocemente sugli altri attacchi perchè diciamo l'esercito è più o meno lo stesso ha un golem a livello 3 un golem donato al castello due mastini il golem e il castello è a livello 5 e 17 mongolfiere 9 maghi un asalto 3 furie un veleno i due golem e gli eroi e l'asalto servono per fare fuori insieme naturalmente ai maghi la regina e le due difese aeree questo quasi sempre nei suoi attacchi questa diciamo è la sua tattica principale quindi andiamo subito a vedere il suo attacco velocizziamolo un po' ecco qui salto golem e maghi dietro quindi pulisce la prima la prima linea di difese e di edifici mette la regina qui perchè vuol far fuori questa aerea e andiamo a pulicizzare finchè non entra dentro fa fuori la regina fa fuori le truppe del clan e fa fuori anche l'altra aerea eccolo qui ha fatto fuori praticamente tutto gli resta questo traghetto e possono partire i mastini con le mongolfiere eccolo qui naturalmente la furia prendere sia il mastino che dopo le mongolfiere qui l'aveva messa un po' male perchè le prende un po' in ritardo ma le difese sono distratte dal mastino eccolo qui l'altro mastino con le mongolfiere fortunatamente il drago va verso la regina che la regina lo sciotta e lo butta giù molto velocemente ed eccolo qui le mongolfiere fanno il devasto naturalmente con le furie e va a pulire tutto tutte le restanti strutture con l'immensità di truppe che gli sono rimaste quindi velocizziamo questo suo attacco 3 stelle veramente easy il TH9 era di un buon livello non eccesso però ma adesso andiamo a vedere gli attacchi nell'attuale war perchè nell'attuale war è attaccato dei TH9 un po' più forti come come difese partiamo dal suo attacco a Talchis e come potete vedere l'esercito è pressoché lo stesso forse sicuramente ha un mastino in più non sbaglio ha qualche maghetto in meno e qualche mongolfiera in meno come vedete cosa farà metterà il salto vorrà far fuori i reali e queste due difeserie e poi andremo a mettere i mastini dall'altra parte ormai lo sto imparando a conoscere mi ha detto che questa è la sua tattica preferita gli porta sempre o quasi sempre le tre stelle quindi fa molto bene ad usarla e la usa molto bene quindi come potete vedere eccolo lì il salto andiamo a velocizzare perchè la tattica è la stessa veleno fa fuori le truppe del clan e come vedete qui eccoli i reali che si stanno shottando dalla furia al re perchè naturalmente la c'è la regina la regina è veramente noiosa contro i mastini se non la fate voi e non è esterna scordatevi di tristellare con mastini perchè la regina deve essere fatta fuori eccolo qui che partono gli altri mastini purtroppo questa area gli è rimasta in vita gli altri mastini con mongolfiere è sempre furia a prendere sia il mastino che le mongolfiere questo questo pil è un po' più difficile perchè diciamo erano messe meglio le aeree l'altro mastino sulla terza sulla terza difesa aerea se era programmato gli potesse rimanere in piedi infatti si era portato per questo i tre mastini intanto i piccoletti dei mastini a me piace chiamarli così vanno a pulire le strutture circostanti e quelle poche mongolfiere danno una mano a velocizzare un po' l'attacco e quindi non gli rimane altro che finire di pulire tutte le strutture infine andremo a vedere un altro attacco sempre di sleeping dog naturalmente perchè diciamo questo video è interamente dedicato a lui e sul quattro io l'avevo bistellato con un gowiwi andiamo a vedere che tipo di pillo è non l'avevo studiato benissimo anche nel gowiwi perchè qui ragazzi con un salto si entrava io invece sono andato a spaccare le mura non molto intelligentemente però comunque ho portato le due stelle e andiamo a vedere il suo esercito che un'altra volta ci ripropone i tre mastini qualche mago naturalmente reali salto furie e veleno dove metterà il salto naturalmente davanti la regina la deve far fuori il più presto possibile e deve far fuori anche queste aeree velocizziamo salto golem maghetti a pulire e via partiti così ecco subito i reali dietro castello del clan veleno diminuiamo un attimo la velocità e come vedete qui attenzione perchè il TH9 è abbastanza maxato attenzione anche a tutte le tesla che danno abbastanza fastidio ma fortunatamente riesce a distruggere tutto ciò che voleva distruggere e via partono i mastini come potete vedere con le mongolfiere furia anche qui la prendono un po' in ritardo questa addirittura non la prendono quindi forse si poteva fare meglio ma comunque veramente un attacco se non perfetto direi quasi e questo è stato un attacco al limite perché diciamo che quasi mancavano 4 secondi forse alla fine del suo attacco perché andiamo a velocizzare qui naturalmente sempre la polizia dei mastini e mongolfiere purtroppo qui le mongolfiere si avvicinano tutte si concentrano e stanno andando contro quella che è la torre del mago ed è devastante per il suo attacco di massa ma forse è stato fortunato si perché diciamo che è stata distratta un pochetto e con uno sputo di vita vanno sopra questa torre e la distruggono naturalmente mongolfiere quando cascano fanno danno questo è stato fondamentale andiamo a priorizzare perché adesso praticamente va a pulire le strutture circostanti io l'ho vista in live ragazzi mancavano veramente pochi secondi ma complimenti sleeping dog ti dico che sei veramente un ottimo player sto imparando molte cose da te quindi ti rinnovo i miei complimenti ringrazio il Gotti che l'ha trovato da rival kingdoms lui gentilmente ci è venuto a trovare quindi ancora complimenti sleeping dog spero di conoscere altri player per cui dedicargli un video intero e forse se se Bizze tornerà attivo nelle guerre farò un video su lui sulle sue terremoto per cui Cristella con le terremoto ma per questo video è tutto un saluto da Proge ciao ragazzi